Lo studio della luce e dei fenomeni che la riguardano si chiama ottica. Le conoscenze che abbiamo attualmente sulla natura della luce si sono notevolmente ampliate ed ora sappiamo che i fenomeni luminosi sono strettamente collegati a quelli elettrici e magnetici. Difatti oggi sappiamo che la luce si trasmette tramite onde trasversali, a sua volta generate da due campi, uno elettrico e uno magnetico, che oscillano in direzioni perpendicolari tra di loro. Nonostante ciò, gli studi su questi fenomeni fiorirono e si svilupparono nel Seicento. Anche nel campo dell'ottica, come in quello della meccanica, Newton diede un contributo fondamentale. Quando ancora non si conosceva la natura di tali onde, e si scoprirono le leggi fondamentali di alcuni fenomeni senza conoscere la natura della luce come onda. Questo perché, per lo studio di alcuni fenomeni, la riflessione e la rifrazione della luce, si può usare la cosiddetta approssimazione dei raggi luminosi, ovvero il principio che la luce si propaga in linea retta, considerando un singolo raggio di luce come un sottile filo luminoso. In questo modo si sono scoperti i principi alla base dell'ottica geometrica, culminati nella costruzione di specchi e lenti e di potenti strumenti di osservazione. come il telescopio e il microscopio. Nello studio della luce dobbiamo inoltre fare una distinzione tra sorgenti di luce e corpi illuminati. Una sorgente di luce emette luce propria. Tale sorgente può essere naturale o artificiale. E la luce, in entrambi i casi, può essere prodotta tramite processi di tipo diverso, di tipo fisico o di tipo chimico. Ad esempio, ecco in quest'immagine, vediamo la più importante, la più conosciuta sorgente di luce naturale, ovvero il Sole. Nel Sole la luce è prodotta tramite reazioni nucleari altamente energetiche, in cui il gas idrogeno presente nel suo nucleo, a temperature di milioni di gradi, viene convertito in elio, e tramite queste reazioni di fusione nucleare viene sprigionata un'enorme quantità di energia, una parte della quale arriva a noi come luce. Quindi è la più importante e conosciuta sorgente di luce naturale. Ancora, un'altra sorgente naturale è una fiamma. Una fiamma è prodotta da una particolare reazione chimica. Le fiamme sono prodotte tramite reazioni di combustione, le quali richiedono del materiale combustibile, che è del materiale organico, ad esempio il legno, e un materiale comburente, cioè che alimenta la combustione. Sappiamo che è l'ossigeno l'elemento presente nell'atmosfera e che alimenta le combustioni. Anche queste reazioni sono altamente energetiche e l'energia prodotta dalle combustioni viene liberata sotto forma di calore, ma anche sotto forma di luce. Ancora, queste sono delle lampadine a filamento, le più conosciute, le prime sorgenti di luce artificiali inventate dall'uomo. Stavolta la luce è prodotta tramite un processo fisico, ovvero viene fatta passare della corrente attraverso un filamento metallico. Il metallo è un metallo raro chiamato tungsteno, che è il metallo a più alto punto di fusione che si conosca. E, come studieremo parlando dell'elettricità, questo processo libera notevoli quantità, sviluppa anche notevoli quantità di calore, cioè il passaggio della corrente attraverso un filamento metallico, e il filamento metallico si scalda fino a diventare incandescente, ovvero fino ad emettere luce. Naturalmente, questo processo sviluppa anche notevoli quantità di calore, tanto che il bulbo di una lampadina, anche appena spenta, o peggio ancora, mentre è in accensione, non si può toccare senza scottarci. Andando più avanti, l'uomo ha imparato a produrre della luce relativamente o completamente fredda. Ad esempio, le lampade al neon, che si scaldano molto meno, producono ed emettono luce tramite il passaggio di una corrente elettrica attraverso un gas rarefatto contenuto all'interno del tubo. In questo caso, viene prodotta luce associata ad una minor quantità di calore. Quindi, le sorgenti di luce possono essere di vario tipo. Per quanto riguarda, invece, i corpi illuminati, ovvero quelli che ci appaiono luminosi perché riflettono la luce di qualche sorgente, in base al diverso comportamento che hanno nei confronti della luce, si distinguono in trasparenti, traslucidi e opachi. Questi dischi di vetro colorato sono il classico esempio di corpi trasparenti. Si dicono trasparenti quei corpi che si lasciano attraversare completamente dalla luce, come l'aria, l'acqua, il vetro. I corpi opachi, invece, assorbono completamente la luce o la riflettono indietro, ovvero proiettano un'ombra. I corpi traslucidi occupano una posizione intermedia tra gli estremi. Un esempio è il vetro smerigliato che vediamo in quest'immagine, che si utilizza ad esempio nelle finestre dei bagni, il quale lascia passare la luce soltanto in parte, nel senso che la luce riesce a passare, ma un vetro di questo tipo non consente attraverso di esso la visione delle immagini. Approssimando quindi la luce ad un filo luminoso, bene, e quindi assumendo, per i fenomeni che ci interessa studiare ora, il principio della trasmissione o propagazione rettilinea della luce, in quest'immagine vediamo delle ombre proiettate da sorgenti di luce di vario tipo. Una sorgente di luce, come vediamo in quest'immagine, può essere puntiforme o può essere estesa, e questo crea una differenza nel tipo di ombra che proiettano i corpi investiti dalla sua luce. Una sorgente puntiforme, come vediamo in alto, genera ombre dai contorni netti. Viceversa, una sorgente estesa, che vediamo in basso, genera ombre sfumate, circondate da una zona di penombra. Inoltre, le ombre prodotte sono diverse a seconda della distanza, a seconda che la sorgente sia a distanza finita oppure infinita. A volte, quando è molto grande, come nel caso del Sole, si può supporre che sia infinita. E quindi, in quel caso, i raggi che arrivano dalla sorgente sul nostro pianeta si possono considerare tra di loro paralleli. È interessante lo studio delle ombre, perché le ombre prodotte da un corpo a seconda della distanza della sorgente finita o infinita sono diverse e costituiscono un ottimo laboratorio anche per lo studio delle trasformazioni geometriche delle figure piane. La luce è protagonista, una volta chiarite alcune caratteristiche generali e la sua natura, diciamo, per quello che ci può interessare ora, sappiamo che la luce è protagonista di alcuni fenomeni con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Uno di questi è quello della riflessione. Un raggio di luce, che come detto si può approssimare ad una linea retta, quando incontra una superficie non trasparente, quindi una superficie opaca, rimbalza indietro, come fa una palla da biliardo quando colpisce la sponda. Di solito, i raggi luminosi, come vediamo in basso, vengono riflessi dai corpi opachi in più direzioni diverse. Quindi la luce che incide su una superficie, come si dice scabra, ovvero ruvida anche a livello microscopico, rimbalza da tutte le parti e non forma quindi delle immagini. Ma, come vediamo nella parte alta, se la superficie riflettente è particolarmente liscia, ovvero è uno specchio, i raggi provenienti dalla sorgente o dall'oggetto che li riflette a sua volta, vengono tutti riflessi nella stessa direzione e di conseguenza si formano delle immagini nitide degli oggetti. Considereremo quindi soprattutto il caso di superfici lavorate a specchio, quindi di specchi naturali, come quelli di acqua, oppure artificiali, come superfici metalliche particolarmente lisce, e andremo a vedere le leggi che regolano la riflessione della luce su di una superficie a specchio. La riflessione della luce è un fenomeno che segue delle leggi geometriche ben precise. Innanzitutto, per comprenderle, occorre immaginare una retta perpendicolare allo specchio, quella quella di dascalia in verde, e che passa per il punto di incidenza, ovvero quello in cui lo specchio è colpito dal raggio luminoso, quello che vediamo a sinistra che si chiama raggio incidente. Come vediamo, il raggio forma un angolo con tale retta. Quell'angolo l'abbiamo indicato con la lettera I ed è chiamato angolo di incidenza. E rimbalza indietro formando un altro angolo, quello indicato in blu. L'angolo si forma sempre con la perpendicolare, è indicato in figura con la R e si chiama angolo di riflessione. La riflessione della luce segue due leggi molto molto semplici. La prima legge della riflessione dice che il raggio incidente, quello riflesso e la retta perpendicolare appartengono ad uno stesso piano. La seconda legge della riflessione dice che l'angolo di incidenza è sempre uguale all'angolo di riflessione, ovvero l'angolo I e l'angolo R sono uguali. Quindi si tratta di una legge, anche se il fenomeno è apparentemente diverso, molto simile a quello che regola il moto di una palla da biliardo quando colpisce una sponda. Esattamente la stessa. Quindi la luce rimbalza indietro su uno specchio, formando un angolo identico a quello con cui l'ha colpito. Si intende sempre l'angolo formato con la retta perpendicolare, nel punto in cui il raggio in arrivo colpisce lo specchio. Quindi la retta perpendicolare, bene, possiamo dire che è un po' la bisettrice dell'angolo somma di ed R. Ora, gli specchi, il cui funzionamento è basato proprio su queste due leggi della riflessione, sono utilizzati non soltanto per restituirci la nostra immagine, ma anche come parti importanti di strumenti ottici, come microscopi e telescopi, che hanno consentito al mondo scientifico di acquisire molte delle conoscenze che possediamo attualmente. Questo è un esempio del più semplice tipo di specchio di cui facciamo uso, ovvero di uno specchio piano, quindi costituito da una superficie riflettente perfettamente piana. E qui vediamo l'oggetto e sotto l'occhio dell'osservatore. Quando ci riflettiamo in uno specchio di questo tipo, che vediamo di profilo, uno specchio piano, vediamo tipicamente la nostra immagine, o quella degli oggetti riflessi, e la vediamo a grandezza naturale, quindi si dice che l'ingrandimento è uguale a 1, e ci sembra che provenga dalla parte opposta dello specchio, rispetto a quella da cui osserviamo. Quindi l'immagine ci sembra provenire da oltre lo specchio, e in questo caso si dice che si tratta di un'immagine virtuale. Inoltre, l'immagine che si forma attraverso uno specchio piano è sempre dritta, quindi uno specchio piano, che è il tipo più comune e semplice di specchio con cui abbiamo a che fare, restituisce sempre un'immagine, che arriva da oltre lo specchio, quindi virtuale, esattamente a grandezza naturale e dritta. Per svariate applicazioni, però, si utilizzano anche degli specchi di altro tipo, degli specchi curvi. Provate un po' a stoppare il video, e riflettete su quest'immagine. Non notate qualcosa di strano? Quello che si nota di strano è che vedete che il bambino è molto vicino allo specchio e la sua immagine appare dritta e appare ingrandita. Quindi non si tratta di uno specchio piano. Inoltre, se ci fate caso, c'è uno sfondo dietro al bambino, dove appare anche una persona, e questo sfondo attraverso lo specchio appare rovesciato. Quindi l'immagine del bambino, che è molto vicino allo specchio, appare dritta e ingrandita, le immagini degli oggetti più lontani appaiono invece rimpicciolite e capovolte. Che tipo di specchio è uno specchio del genere? Si tratta di uno specchio sferico, ovviamente, a curvatura sferica, in cui le modalità di formazione dell'immagine sono più complesse, e che possono restituire addirittura immagini reali, cioè immagini che si formano al di qua dello specchio, e non oltre. Vedendolo di profilo, infatti vedremmo che lo sfondo capovolto sembra apparire al di qua, prima dello specchio, mentre invece l'immagine del bambino è virtuale. Gli specchi sferici si dividono in due categorie. Quello che vediamo in quest'immagine è uno specchio concavo, ovvero che ha la curvatura all'interno. Possiamo pensare alla curvatura di un cucchiaio. Bene, uno specchio concavo, ora noi non vi fate spaventare da queste immagini, perché non studieremo le leggi geometriche di come si costruisce l'immagine e di come si forma in uno specchio di questo tipo. Però molti di voi possono simulare specchi di questo tipo se a casa hanno dei cucchiai di metallo grandi e lucidi, quindi in grado di riflettere. La parte interna, bene, del cucchiaio, quella in cui mettiamo il cibo, quindi con la curvatura rivolta all'interno, si può considerare uno specchio concavo, come quello che vediamo appunto in quest'immagine, in questo grafico. Mentre invece, al contrario, la parte esterna del cucchiaio, quella dove non mettiamo il cibo, bene, il retro, diciamo, il dorso del cucchiaio, bombato in fuori, si può considerare uno specchio convesso, anche se la curvatura del cucchiaio non è esattamente sferica. Ora, in uno specchio a curvatura sferica distinguiamo alcuni elementi, che sono il vertice, ovvero il punto di maggior curvatura sullo specchio, il centro di curvatura, che è il centro della sfera a cui lo specchio appartiene, quello che in queste immagini si indica con la C, e il fuoco. Il fuoco si trova sull'asse ottico, quindi sulla linea che unisce il centro col vertice, ed è il punto medio del segmento che unisce il centro con il vertice. In uno specchio di questo tipo, quindi che riflette nella parte interna, curvato all'interno, i raggi luminosi paralleli, quando si riflettono, passano tutti per il fuoco. In uno specchio convesso succederà il contrario. Bene, saranno i prolungamenti, come vedremo, che passano per il fuoco. Specchi di questo tipo, come detto, possono formare una grande varietà di immagini a seconda di dove è posizionato l'oggetto. Non vediamo in che modo si ottengono. Bene, intanto possiamo vedere come si forma l'immagine, ecco, attraverso uno specchio piano. Questo è un video che ci mostra le leggi generali della riflessione. Vediamo che lì sullo zero c'è la perpendicolare, nella parte destra non si vede lo specchio. I raggi vengono simulati con dei laser e vediamo che i due angoli sono uguali. Questo vale anche per specchi sferici. Però negli specchi sferici dobbiamo considerare un fuoco dove convergono i raggi originariamente paralleli. E qui adesso ci divertiamo a vedere questo signore, questo sperimentatore che tiene un pendolo sospeso. Vediamo un'immagine dritta quando è molto vicino allo specchio, ovvero tra il fuoco e lo specchio. Mano a mano che lo allontaniamo raggiungendo il fuoco l'immagine diventa enorme perché va ad infinito. E adesso vediamo che cosa succede quando lo sperimentatore sposta il pendolo oltre il fuoco. vediamo che l'immagine si rimpicciolisce ma dalla disposizione dei colori possiamo vedere che l'immagine si rovescia. Quindi dipende il tipo di formazione dell'immagine attraverso uno specchio concavo quindi curvo all'interno dipende dalla distanza dell'oggetto dal fuoco. Se oltre il fuoco vedete abbiamo un'immagine adesso vediamo un video dove tutto questo si vede in maniera più veloce se tra il fuoco e lo specchio abbiamo un'immagine dritta e ingrandita nel fuoco va ad infinito oltre il fuoco diventa l'immagine diventa rovesciata capovolta. Nel caso quindi nel caso invece al contrario di uno specchio di questo tipo di quest'altro tipo ovvero di uno specchio convesso ecco lo specchio convesso come vediamo è quello che è bombato invece all'esterno quindi immaginiamo la parte esterna di un cucchiaio quello dove non mettiamo il cibo in questo caso il fuoco sta al di là dello specchio quindi si tratta di un fuoco virtuale cioè sta dalla parte opposta dello specchio rispetto all'oggetto e così anche il centro di curvatura nel caso dello specchio convesso la formazione dell'immagine le leggi che determinano la formazione dell'immagine sono molto più semplici perché uno specchio convesso restituisce sempre un'immagine virtuale quindi che viene oltre lo specchio dritta e rimpicciolita specchi di questo tipo specchi convessi adesso vedremo un video su come si forma l'immagine sono particolarmente utili ad esempio in alcuni incroci stradali oppure come specchietti retrovisori degli auto delle automobili a noi sembrano piani ma in realtà sono leggermente convessi bombati in fuori questo perché rimpicciolendo l'immagine coprono un campo visivo più ampio qui vediamo uno specchio convesso e vediamo che stavolta l'immagine è sempre dritta e rimpicciolita lo sperimentatore si sposta indietro indipendentemente dalla distanza dell'oggetto che si riflette dal fuoco che si riflette